Si sono chiuse a Pagani nell'auditorium teatro San D'Alfonso Maria dei Liguori le due giornate dedicate al premio Marcello Torre sindaco, un sindaco ammazzato 38 anni fa dalla Camorra. Il momento di riflessione ha avuto un gradito successo ed ha visto i ragazzi degli istituti scolastici di Pagani vivere con interesse ed attenzione il ricordo e a vivere il premio stesso dedicato al sindaco Marcello, sindaco di Pagani. Paolo Borrometi e Don Alex Zanotelli premiati, ma assuma sempre più valore soprattutto la presenza di tante persone autorevoli e di tanti amici di Marcello che dopo 38 anni amano ancora rivivere gli antichi momenti e perché no? Riportare alla mente atti, messaggi di un uomo e di un sindaco che troppo presto fu costretto a non dare sostanza al progetto che egli aveva della sua città. Fra i tanti abbiamo ascoltato due uomini politici, ma ascoltiamoli perché ne hanno disegnato la statura ed il valore. Fu una cosa che ha cambiato la storia di questo paese, ha cambiato e ha distrutto una famiglia, soprattutto ha cambiato e ha distrutto una comunità. Ci sono voluti anni per riprenderci da quella ferita perché quando ti tolgono il primo cittadino, ti ammazzano il primo cittadino, una comunità è ferita nel profondo, è qualcosa che non avviene tutti i giorni, naturalmente non avviene dappertutto. Pagani porta ancora i segni di quella ferita, insomma perdere una delle persone migliori e togliere da una comunità un sindaco di quel livello, un professionista di quel livello, un padre di quel livello, non è una cosa semplice. Persone eccezionali, non è che nascono tutti i giorni, non è che lei è a disposizione tutti i momenti. In una comunità come Pagani, insomma avere delle persone del livello di Marcello Torre è una fortuna che la vita ti dà e quando te la tolgono è chiaro che tutta la collettività ne risente. Non lo viviamo solo come un appuntamento e questo è un segnale molto incoraggiante che io rilevo stamattina, particolarmente l'ho rilevato, dalla fortissima e grandissima concentrazione oltre che attenzione dei tantissimi ragazzi presenti. Forse negli altri anni non è stato così, significa che questo lavoro riesce a produrre nuove sensibilità. Sarà anche per la particolare cura che sempre Anna Maria Torre e la sua famiglia ripongono nell'organizzazione avvalendosi di personalità di altissimo prestigio, di testimonianze particolarmente significative.